ciao amico di facebook un sabato anzi buon sabato dall'alpe groppera di madesimo conosci l'alpe groppera impossibile un posto stupendo raviglioso devi venirci siamo a 1900 metri di quota nel territorio comunale di madesimo ai piedi del mitico groppera che sono 2948 metri e dell'altrettanto mitico canalone pista da sci nera nerissima attiva fino a pochi anni fa poi è stata chiusa proprio perché ritenuta particolarmente difficile e anche pericolosa ecco io non ero mai stata in alpe groppera ed è bellissimo bellissimo veramente meraviglioso se non sei mai venuto devi assolutamente farlo c'è la strada che ti porta su da madesimo e c'è anche la ci sono i sentieri ovviamente però puoi salire anche in cabino via io sono salita dalla cabino via fino ai larici e poi su dal pianoro fino a più a groppera bellissimo meraviglioso meraviglioso un clima stupendo e ventilato però è caldo e l'alpeggio è veramente un bijou tenuto benissimo benissimo le case sono tutte in pietra i tetti in piode vedi qua dietro di me ben ristrutturate con tanto legno tanti fiori ti direi una meraviglia un posto incantevole più incantevole piccolino però ben tenuto e anche vissuto perché in questi giorni c'è ancora parecchia gente quindi amico di facebook quando avrai un attimo se non sei mai salito in alpe groppera assolutamente devi venire ho scoperto che c'è anche uno strano fiore velenoso qua c'è un cartello che lo indica per evitare che qualcuno lo tocchi o ne ingerisca parte delle foglie o dei fiori è anche un bel fiore a dire il vero però verenoso vedi intoccabile ciao amico di facebook buon sabato da alpe groppera 1900 metri di quota soprammadesimo di fronte ai l'alpeandossi e tutto il resto impianti ovviamente devi salita baci 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 buon sabato da alpegare 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 buon sabato da alpegare